Franchi tra andata e ritorno è stata una gara molto equilibrata con i ragazzi del Sambuceto, alla fine è decisa da un episodio? Sì, abbiamo trovato una squadra molto preparata come noi, sapevamo che loro erano molto bravi in contropiede, abbiamo cercato di concedergli il meno possibile questo, per fortuna oggi l'episodio ci ha girato a favore e siamo riusciti a sbloccarla. La tattica del Sambuceto era quella di aspettare il campo basso perché abbiamo visto una squadra avversaria molto attendista dall'inizio della partita, ve lo aspettavate? Sì, noi sapevamo che loro erano molto bravi ad aspettare e ripartire in contropiede, anche se comunque a volte dal basso provavano a giocare, infatti abbiamo cercato di andare a prendere alti per cercare di fargli lanciare la palla. Devo dire che oggi abbiamo preparato molto bene, pure abbiamo cambiato il modulo ed è andato tutto bene. A un certo punto sembrava che mancasse solo il gol perché c'erano delle iniziative da parte vostra ma credo siate mancati un po' nell'area di rigore negli ultimi 16 metri e dei tiri da fuori del Sambuceto sui quali è stato bravissimo Di Rienzo. Sì, ringraziamo Marco che ci ha salvato più di una volta e a differenza dell'altra volta magari oggi abbiamo un attacco un po' più leggero che stavamo Iax e Andrea quindi ci è mancato magari il peso dentro l'area di rigore con questi cross che abbiamo messo da fuori. Come dici te, ci è mancato magari la giocata finale, il passaggio giusto alla fine per cercare di sbloccarla magari prima. Adesso siete a più 5 sull'Isernia in campionato. Ai quarti di finale di Coppa Italia nazionale, l'appetito viene mangiando dunque? Eh sì dai, come avevamo detto all'inizio dell'anno, uno piano piano si conquistava le cose, la squadra era stata creata anche in poco tempo quindi non sapevamo neanche fino a dove potessimo arrivare. Dobbiamo dire che a gennaio ci siamo rinforzati tanto per riuscire a lottare su tutti e due i fronti e per adesso ci stiamo riuscendo. Ronci rammaricato per questa sconfitta 1-0 perché insomma ai punti sicuramente non c'era la sconfitta per il Sambuceto. Assolutamente, io ho detto prima se avessimo perso 1-0 a campo basso all'ultimo minuto con rabbia lo accetti perché hai fatto un errore sanguinoso e hai concesso una ripartenza a campo aperto e allora se prendi gol là devi fare mea colpa e la partita magari la perdi anche veritatamente. C'è perché hai fatto un errore ma oggi credo che la squadra abbia fatto una prestazione importante, la squadra non ha concesso un tiro in porta al campo basso perché ho chiesto al mio portiere e non ha fatto una parata. E perdere così è dispiace perché noi abbiamo avuto delle opportunità importanti, una su tutte quella di Ranieri che non vede o che non vede, che vede Rodia al centro dell'aria completamente da solo invece di mettergli la palla con precisione addosso la mette lunga sul secondo palo. e sfuma questa occasione ma questa era la più nitida perché è un passaggio facile e purtroppo non gli è riuscito ma lì c'è la possibilità di andare in vantaggio noi. Poi ci sono state altre situazioni dove potevamo in ripartenza perché l'abbiamo in questa volta a differenza di campo basso l'abbiamo impostata così perché sapevamo che ci volevano venire a prendere alti e allora l'obiettivo era farli venire su per poi scavalcare, ho messo due torri davanti apposta per andare su questa spizzata, su questa situazione tattica ma la squadra l'ha fatto molto bene. Abbiamo fatto secondo me una grossa prestazione, forse la più bella in Coppa Italia da quando è cominciata questa competizione. C'è il dispiacere perché quantomeno avremmo meritato lo 0-0. Era prevedibile che potesse decidere l'episodio visto che c'è stato grande equilibrio sia a Campobasso che qui a San Giovanni? L'episodio ha fatto la differenza, noi purtroppo in alcune situazioni siamo mancati nel senso che c'è mancata quella cattiveria nel fare gol, poi anche un pizzico di fortuna perché sulle due situazioni da rigore io spero che l'albito abbia ragione perché è giusto che lui abbia ragione ma se ha sbagliato che mi dicono che c'è un altro rigore quello su Barrovo che è ancora più clamoroso io chiaramente quello di Barrovo non ero troppo impallato, quello di Sparvoli Luca mi dice che stava sterzando, gli ha preso il piede d'appoggio e quindi se sta a 5 metri alla porta devi fischiare il rigore però è andata così e sono orgoglioso dei ragazzi e usciamo a testa alta con una grandissima squadra a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo e spero che oltre al campionato riescano anche a vincere questa Coppa perché sono una squadra importante e hanno una storia importante quindi noi usciamo a testa alta